EGL Italia negli ultimi anni ha sviluppato un approccio teso a ottimizzare la posizione dei clienti attraverso strumenti contrattuali flessibili e personalizzati. Lo scopo è quello di rendere più consapevoli i clienti di quelli che sono i rischi collegati all'approvvigionamento energetico di tutto un anno, come minimo in genere, e soprattutto di dare degli strumenti per la gestione di questo rischio. Sono strumenti che, come abbiamo detto, devono avere una flessibilità e devono essere studiati, personalizzandoli, a seconda di quelle che sono le esigenze specifiche di ciascun cliente, per rendere la soluzione la più aderente e la più corretta proprio in termini di gestione di questo rischio. Il controllo, la competenza, la conoscenza dei propri volumi di fabbisogno e dei propri programmi permette sicuramente un contenimento dei costi, permette un'efficienza collegata proprio alla formula contrattuale e in sintesi quindi un miglioramento delle condizioni economiche e un saving sul prezzo.